Saranno allestiti quattro maxi schermi al Mandela Forum, il più grande hub di Firenze, per evitare che la finale degli europei fra Italia e Inghilterra possa intaccare sulla campagna vaccinale. La partita si giocherà alle 21. Per quell'orario al CUP e al numero verde è arrivata una forte richiesta di modifica della somministrazione da parte dei vaccinandi. Nessuno vuole perdersi la super sfida. Già per la semifinale contro la Spagna, molti fra coloro che avevano l'appuntamento in orario gara si sono presentati all'hub con almeno un paio d'ore di anticipo, qualcuno addirittura il giorno dopo. Per domenica c'è il sentore che in molti anticiperanno autonomamente al pomeriggio l'arrivo al Mandela. Per fornire un servizio in più ed evitare che i prenotati non si presentino, l'organizzazione si attrezzerà con i maxi schermi da 4 metri per 2. Sulla platea sarà anche proiettata una grande primula tricolore. Per la serata al Lab sono stati invitati anche il governatore Eugenio Gianni ed il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Ma quello del Mandela non sarà l'unico grande ritrovo per la partita. In città sono molti maxi schermi dove in tanti hanno seguito il cammino degli azzurri nel torneo. Oggi nelle prefetture saranno completate le riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Allo studio le strategie per evitare che si ripetano scene di follia come avvenuto anche in alcune città toscane dopo la vittoria contro la Spagna. A Lucca ci sarà un maxi schermo a Villa Bottini. Non è escluso che possano esserne allestiti altri anche negli stadi della regione dove accedere con prenotazione, esito del tampone e green pass.